Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sulla serie su Child of Light. Allora, solo un'anticipazione, questa serie non sarà commentary, sarà penso quasi tutta solamente con le musiche di gioco e solamente con la musica del gioco e gli effetti del gioco. Perché praticamente la bellezza di questo gioco appunto sta quasi tutta lì. Quindi adesso blocco un attimo, tiro su di uomo e volumi e partiamo subito con questa nuova avventura. Ciao! Su, presto, infilati a letto. Ti racconterò una storia. Un regno, le muri, è lontano e perduto. Una bimba e un destino di gloria. In Austria un tempo un duca regnava. Aurora era sua figlia. La madre nel mistero era avvolta. Il padre la sua sola famiglia. Lui stesso crebbe la bimba. Non si lasciavano mai. Finché, sentandosi solo, il suo cuore lo mise nei guai. Al 1900 un lustro mancava. Ed era venerdì santo, quando la corte divenne teatro e una moglie novella motivo di vanto. La sera Aurora si addormentò e il fuoco si assopì. Ma il freddo la colse e l'avvolse. E dal gelo il la rapprividì. All'alba così la trovarono. Immobile, fretta e irrigidita. Il padre pianse ed implorò. Ma in lei si era spenta la vita. Senza dubbio né alcun sospetto. Aurora era ormai spirata. Eppure, come in una fiaba, si svegliò in una terra affatata. Eppure, si svegliò in una terra affatata. Eppure, si svegliò in una terra affatata. Vamos. Ciao. Musica. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.